ciao amici bentornati sul canale io sono alfredo nel video di oggi visto che oggi è primo luglio e qualcosa è cambiato per noi dronisti o visti il video di oggi andiamo a vedere come volare in regola un'altra volta visto questa scadenza e comunque visto le molteplici richieste che quasi giornalmente mi fanno in privato sui vari social penso che al caso visto questa scadenza particolare di oggi di fare un video un po' ripregolativo e vi aggiorno un po' sulla situazione se il video vi può essere utile comunque è di vostro interesse vi invito a continuare la visione lasciate un bel mi piace per supportarmi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdervi i futuri video allora la prima cosa che io vi avevo contato in passato era quello di fare il patentino prima del primo luglio questo perché perché adesso passato il primo luglio il patentino si può fare sempre online non è cambiato niente solo che avete quattro tentativi invece che sei e dovete pagare prima di fare l'esame invece che dopo averlo superato quindi io vi avevo detto di farlo prima se non avete fatto quindi questa cosa già è cambiata poi assicurazione va fatta su tutti i droni sia per i droni che pesano dai i 249 grammi in giù sia per i droni che pesano di più tipo il mavic 2 mavic 2 pro absanzino tutti quelli che pesano più di 249 grammi è obbligatoria dovete farla ed è obbligatoria questa cosa dal 15 di dicembre del 2019 non si scappa dove si fa l'assicurazione e come si fa rispondo a queste due domande semplici dove si fa io personalmente l'ho fatto sul sito drone zin ma voi potete contattare il vostro assicuratore di fiducia e parlare con lui se vi fidate se sapete che lavora bene saprà sicuramente indirizzarvi perché ormai le assicurazioni dei droni si possono fare anche con l'allianz e le assicurazioni delle banche dipende san paolo ma non vorrei fare altre pubblicità a questi queste assicurazioni comunque avete capito io personalmente l'ho fatto sul drone zin visto che è una rivista digitale quindi molto più informata e magari sicuramente molto più oculata nella scelta delle assicurazioni sul mondo dei droni quindi vi lascio qui sotto il link in descrizione che vi indirizza proprio sulla parte del sito dedicata alle assicurazioni e niente assicurazione è facilissima basta che cliccate sull'assicurazione che vi interessa obbistica o lavorativa quella che volete voi cliccate su quella che vi interessa dopodiché venite rindirizzati sul sito della KB Broker che è l'assicurazione vera drone zin diciamo che è solo un tramite KB Broker è l'assicurazione come allianz e come tante altre costo mi pare che sui 35 euro non dovete fare altro non so se l'avete mai fatto firmare dei documenti o in digitalmente oppure invieranno il pdf voi lo stampate firmate riscansionate e rinviate dopo un paio d'ore e mezza giornata vi arriverà un pdf tipo questo qui dove ci sono tutti i dati lo muovo perché non devo farvi leggere i miei dati ovviamente e non so se lo fanno ancora ma a distanza di settimane dopo che avete firmato il contratto e dopo che avete la vostra assicurazione vi arriva anche un cartellino tipo questo qui che vi serve per non portarvi dietro il cartaceo vi portate quello e quello vi vale come assicurazione anche se per regolamento doveste portarvi il cartaceo io mi porto dietro tutto infatti ho fatto una cartellina dove metto tutto lì dentro vi consiglio di fare così anche voi ok il discorso assicurazione abbiamo affrontato l'abbiamo visto fate assicurazione state a posto se avete un drone come il mavic mini che pesa 249 grammi o anche meno state a posto vi serve solo l'assicurazione sia adesso sia dopo il primo gennaio 2021 non dovete fare nient'altro né qr code né niente se siete hobbisti ovviamente se invece avete un drone tipo il mavic air 2 o tipo il mavic 2 pro dovete fare anche il patentino come si fa il patentino l'ho mostrato in qualche video comunque ci sono video online a bizzeffe andate a vedere come si fa andate sul sito dell'enac fate le differenze ve lo spiegate a inizio video quindi non ve le spiego una volta che avete il patentino tipo questo qui state a posto vi portate dietro anche questo secondo step fatto patentino ok l'ultima cosa che c'è da fare sui droni sempre che pesano più di 249 grammi dovete applicare il qr code dove si fa e come si fa anche qui dove si fa bisogna andare sul sito di flight punto it andiamo a vedere come si fa tutto questo procedimento ok ragazzi aprite una nuova scheda cliccate www.flight.it ce l'abbiamo qui andate su accedi ai servizi a un po lento il sito di flight come potete vedere questa è già la prima domanda che mi fanno in molti dicono io posso non vedo restrizioni posso volare dappertutto no non puoi volare dappertutto vedete che non c'è nessuna bella restrizione su tutta nostra italia quindi uno potrebbe pensare ok è una che è impazzita l'italia è diventata un paese anarchico già già di più di quello che è adesso e quindi posso volare da me pare no perché dovete registrarvi registrarvi semplice non vi faccio il tutorial come registrarsi su facebook avrebbi si registrati cliccate qui in alto a destra dove è scritto login e fate accedi adesso cliccando su accedi ed entrando come per magia appariranno tutte queste no flight zone aree ristrette aree dove potete volare in modo limitato e via dicendo non ho mai capito perché abbiano fatto così comunque va bene tanto registrarsi è gratuito e potete così consultare le mappe e sapere se potete volare nella vostra località registrati ci siamo registrati adesso dobbiamo diventare operatore sapr visto che abbiamo fatto il patent in quindi apriamo le investazioni io ho già fatto tutto quindi qui sarà tutto diciamo un po non posso farlo rivedere comunque è tutto in italiano tipo oggi utente username lo inventate le mail dove dovete ricevere comunicazioni il nome cognome provincia di nascita dicendo dopo che avete fatto tutto questo vi spostate su operatore sapr su operatore sapr di chi darà il tipo di documento scegliere carta entità normale elettronica e passaporto compilate destra a sinistra poi vi verrà vi verrà inviata successivamente un email dove vi verrà chiesto di inviare un file pdf contenente la scansione pronte e retro del vostro documento quindi in un unica pagina e in un unico file pdf dovete mettere il davanti e di dietro della vostra del vostro documento che avete utilizzato ok dopo un po vi verrà inviato mia misa anche un codice per continuare nella registrazione su licenza pilota dovete mettere cliccare su accetto tipo di testamento online attestato è un numero seriale che trovate una volta che avete conseguito il patent in online e lo trovate su quel documento che abbiamo mostrato prima questo non può essere modificato poi visto che la scadenza è il 29 aprile 2025 la data di rilascio sarà il 29 04 2020 il tipo mettete non cro e cliccate su salva ok a me esce questa cosa ci sto tentando da vari giorni ma non riesco a risolverla la dovrò risolvere per aggiornare va bene a voi non dovrebbe creare problemi comunque una volta che avete fatto questo potete andare benissimo su associa un drone qui c'è un'altra cosa da fare come come potete vedere più o meno dove non è censurato qui c'è il mio mavic mini registrato con ad uso professionale io adesso dovrò registrare il mavic air 2 e il mavic 2 pro quindi clicco qui per aggiungere un nuovo drone nome del drone lo chiamo mavic 2 pro papetti produttore del drone dj ai modello del drone mavic 2 pro stato pronto al volo sono operatore di questo drone poi ci sono queste tre voci che vi vengono chieste la campagna assicurativa potete mettere pure non metterla fare come vi pare però queste tre cose vanno inserite flight controller gcs e apr flight controller apr sono lo stesso seriale gcs un altro seriale dove li troviamo i seriali di cui necessitiamo per la registrazione dove li troviamo allora gcs sarebbe ground control station che sarebbe la nostra stazione a terra pratica il radiocomando quindi per la maggior parte dei droni almeno dj ai lo troviamo dietro al radiocomando oppure lo troviamo dentro le informazioni aggiuntive dentro l'app dj q4 comunque l'app dj fly quella del vostro drone trovate tutto cliccando sui tre pallini e andando su informazioni aggiuntive trovate tutto lì oppure sulla scatola il flight controller in genere lo troviamo sulla scatola infatti se io prendo adesso dove trovarlo lì infatti questo dove c'è scritto dove vedete scritto sn è il seriale del vostro drone potete trovarlo però anche qui infatti se io apro l'ala destra del mio mavic 2 pro c'è il seriale eccolo qui su apr potete mettere la stessa cosa quindi fate quando dovete selezionare quello di sopra fate contro c contro v ma almeno per il pc per gli apple non lo so perché non ho mai avuto uno ovunque fate copia in colla frustration io attualmente non ho il radiocomando originale perché l'ho venduto però teoricamente ho il dj smart controller adesso lo prendo e vado a vedere se dietro al dj smart controller c'è un seriale riuscito a vederlo comunque è il seriale teoricamente sta qui ma è completamente cancellato quindi succede quello che avevo detto prima se magari col sudore si cangella qualcosa non preoccupatevi perché o lo recuperate dall'app o le recuperate dalla scatola adesso vado a vedere sulla scatola dello smart controller come per il drone se avete lo smart controller invece del radiocomando normale il seriale lo trovate sulla scatola quindi state a posto quindi mi raccomando non buttare mai le scatole ok ragazzi i seriali abbiamo insedi tutti se stavate registrando un mavic mini come tergentino dovevate spuntare questo drone è non offensivo ma siccome non è un mavic mini clicchiamo su salva ok adesso io ho il mio codice ma non posso stamparlo quindi devo perché devo pagare 6 euro per generare il QR code che andrà attaccato sul drone quindi faccio l'acquisto di coin stai presto indirizzato sul sito di flight shop ok quindi adesso il momento in cui bisogna cacciare i soldi ma adesso qui poi c'è la tabellina che vi fa l'epilogo se state utilizzando l'uso base la registrazione è gratuita sia per diciamo utenti base che per utenti professionali l'abbonamento annuale se siete obbisti non esiste infatti c'è zero se invece dovete lavorarci col drone dovete pagare 24 euro l'anno QR code cambia il prezzo 6 euro obbisti 96 euro per lavorare quindi andiamo qui pacchetto di coin per QR code base adesso ne compro due perché tanto già so che dovrò registrare anche il mavic air 2 quindi faccio acquista potete scegliere o bonifico bancario carta di credito mi vengo e non so cosa sia comunque faccio carta di credito come sempre sarete indirizzati inserite tutti i dati quindi procedi ok il tuo ordine è stato inviato puoi vedere la cronologia è andata continuo adesso torniamo su deflight adesso ricaricando diciamo la pagina viene verificato che abbiamo comprato indico in devo farlo per il mio mavic 2 propabetti faccio attivo QR code base 6 QR code base sarà attivato sul drone? yes clicchiamo su ok poi adesso come potete vedere posso stampare il QR code dove ci saranno tutti i miei dati in nome del drone produttore il file controller tutte queste cose e quindi lo stampiamo e lo attacchiamo sul nostro drone ok ragazzi spero di essere stato il più chiaro possibile spero di avervi dato una mano con questo video così fosse un bel mi piace e gradito è del tutto gratuito tanto iscrivetevi al canale per supportarmi e attivate la campanellina ci saranno prossimi video su tutti i droni che sono in mio possesso Mavic Mini, Mavic Air 2, Mavic 2 Pro, Abzan Zeno 2 e MJX Bugs B7 quindi c'è molta carne sul fuoco ovviamente il tempo non è mai abbastanza vi ricordo che non faccio solo questo per vivere sfortunatamente vorrei ma non è così se non volete rimanere indietro sul mondo dei droni iscrivetevi anche al gruppo facebook del quale sono l'amministratore Freddy Tech Group lì ci scambiamo informazioni non pubblico tutti i giorni offerte come vedo fare in molti gruppi telegram anche perché tutte quelle cose non possono averle non possono possederle non possono testarle quindi è inutile che io vi propongo una cosa che è una cosa che mi fa imbestialire sparano a 3.000 oggetti che non hanno mai testato e mai magari avranno fra le loro mani però loro ve le riconsigliano a me sembra una cosa inutile comunque fate come vi pare io cerco di essere più veritiero possibile come vuoi come dico in tutti i video quindi spero che apprezzate la mia sincerità e spero che questo un giorno mi ripaghi comunque noi ci vediamo nel prossimo video sempre qui su Freddy Tech ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.